Ci siamo, finalmente ne abbiamo parlato tantissimo, ne abbiamo parlato al Motor Show tutto insieme e lo sogniamo da un sacco di tempo Sto parlando del primo momento di aggregazione, chiamiamolo così, in pista insieme Quando? 27 e 28 maggio Dove? Autodono di Modena, dove se no? Ovviamente, ci sarà la possibilità chiaramente di girare in pista con le vostre auto oppure anche Con noi, con le nostre Con le mani Non possiamo dirlo Adesso non possiamo ancora dire, stiamo organizzando, diciamo solo che porteremo tante gomme Quello sì Tante gomme, perché saranno comunque autotraszioni anteriori, posteriori Integrale Integrale, tutto E poi ci sarà la possibilità magari anche di provare delle novità di prodotto di cui ancora non vi possiamo dire nulla Sarà un evento di due giorni, denso di appuntamenti e ci saremo tutti Noi il test team e ci saranno tutte le persone di Omni Out e di Edimoting che non vedete mai Ma che lavorano con noi nei video Quindi ci devono essere perché è l'evento dell'anno Ma soprattutto ci sarete voi Io mi aspetto che veniate in tanti Io mi sto muovendo per coinvolgere club, autostoriche Qualunque cosa renda questi due giorni bellissimi da vedere e da vivere Come farete ad esserci anche voi Seguite il link qui in descrizione Ma soprattutto nei prossimi giorni vi daremo ulteriori dettagli su tutti i nostri canali, sui social, sul nostro sito Quindi continuate a seguirci perché così vi racconteremo come stiamo organizzando i Motor One Days Mi raccomando Intanto quindi quando? 27-28 maggio Cosa? Motor One Days Dove? Le rispondo io Autodromo di Modena Non mancate Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS